E' tornato a riunirsi il Consiglio Comunale della città di Tolentino. In apertura di seduta l'amministrazione comunale ha risposto all'interrogazione presentata dai consiglieri Cesini, Quercetti e Corvatta avente per argomento la riqualificazione di piazza Martiri di Montalto. Approvato con 11 voti favorevoli e 2 contrari, Cesini e Quercetti, l'affidamento per la gestione dei parcheggi in house providing all'ASSM-SPA. Un punto, questo, dove non è mancata la discussione con il Sindaco Pezzanesi che ha ricordato come sia necessario garantire una corretta manutenzione e un'adeguata pulizia di determinati spazi anche a svantaggio della totale gratuità per gli utenti. Parere favorevole unanime, infine, all'aggiornamento numero 2 del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e del relativo elenco annuale.